Io sono Unitelma, la nuova iniziativa multimediale interamente dedicata agli studenti di Unitelma Sapienza, un modo per raccontarsi e raccontare la propria esperienza presso il nostro Ateneo. Oggi siamo in compagnia di Rosa Francesca Capozza. Che corso hai frequentato, Rosa Francesca? Ho frequentato il corso di master di primo livello Criminologia, Scienze Investigative e della Sicurezza. Ecco, perché hai scelto Unitelma Sapienza? Ho scelto proprio Unitelma Sapienza perché mi ha consentito di approfondire delle tematiche per me molto interessanti con la comodità della modalità a distanza. Ecco, come si sono svolte le lezioni e le attività didattiche inerenti a questo master che hai scelto? Le lezioni si sono svolte con estrema semplicità. Ecco, perché io appena avevo un momento di tempo, mi collegavo a qualsiasi ora sulla piattaforma, avevo la possibilità di visionare con comodità le lezioni e certe volte anche di vederle due volte perché mi ero particolarmente appassionata. Ecco, cosa ti ha colpito di più di questo master? Quali sono i suoi punti di forza? Perché magari lo consiglieresti a un tuo collega? E cosa, che consiglio daresti rispetto appunto allo stesso master? Mi ha colpito molto la semplicità con cui mi è stato possibile collegarmi e fruire di tutti i contenuti. Mi ha colpito molto la profonda qualità della formazione che era garantita con la partecipazione di insegnanti, di professori di altissimo livello. E mi ha colpito molto la grande disponibilità che ho riscontrato nel tutoraggio da parte appunto dei docenti, della professoressa, il direttore Roberta Prati, che sono stati appunto disponibilissimi a seguire qualsiasi eventuale difficoltà o dubbio o perplessità. Assolutamente lo consiglio perché, ripeto, consente assolutamente di fornire una formazione completa a 360 gradi proprio sull'attività del criminologo, che sappiamo finissimo essere molto complessa e polietrica. Ecco, cos'è per te Unitelma Sapienza? Cosa è stata? E cosa diresti appunto a un collega che così vorrebbe iscriversi ai nostri corsi e ai nostri master? Per me è stata un'esperienza bellissima. Io infatti sono molto dispiaciuta di averla conclusa, avrei voluto continuare assolutamente ad essere in collegamento con questa comunità. Nonostante, diciamo, la virtualità della modalità, io mi sentivo molto partecipe e molto presente della didattica e della comunanza. E lo consiglio assolutamente perché effettivamente si può trovare quello che si cerca, soprattutto adesso, anche con il Covid, tra l'altro, l'emergenza sanitaria. La modalità online è quella che veramente consente di continuare una formazione ad aggiornarsi, ecco, e a non essere legato purtroppo alla didattica in presenza, cosa impensabile, soprattutto per chi come me lavora, perché io sono laureata, diciamo, già da tantissimi anni e lavoro da tanto tempo, ma mi piace continuare ad aggiornarmi. Quindi, diciamo, l'aspetto molto positivo di Miniterm è che accoglie coloro che sono già formati anche, quindi non soltanto gli studenti di primo pelo, chiamiamoli così, ma anche quelli, insomma, anzianotti come me, che però amano continuare a approfondire e fare bene la propria professione. Allora, un buon motivo per tornare e iscriversi a uno dei nostri corsi e dei nostri master, noi ti ringraziamo. Grazie a voi, grazie mille. E ricordiamo anche tutti coloro i quali volessero raccontarci la propria esperienza Unitelma Sapienza che possono scriverci a un ufficio stampa chiocciolaunitelmasapienza.it. Grazie.